Noi pensiamo di avere una relazione particolare con i clienti, i nostri distributori e cerchiamo di costruirla anche in maniera significativa con i nostri clienti agricoltori. Noi cediamo ai nostri clienti prodotti, tecnologie, approcci commerciali particolari, servizi e cerchiamo di fare in modo che i nostri clienti distributori siano in grado poi a loro volta di cederli in maniera proficua, profittevole, intelligente ai loro clienti agricoltori. Lavoriamo per fare in modo che i nostri servizi, i nostri progetti aiutino l'agricoltore a migliorare la qualità e la quantità del proprio raccolto. Riuscendo a coltivare gli interessi di tutti gli attori della filiera, noi, i distributori, gli agricoltori e coltivare l'interesse finale dei consumatori, evidentemente aumentiamo il valore per l'agricoltura italiana.